Eccoti qua piccolina, sei bellissima, piacerai a un sacco di uomini, sai, anche un sacco di donne. Ma non preoccuparti, io non sono geloso, sono un marito comprensivo, ho un padre. Ma io chi sono, il marito e il padre? Marito, padre e anche di più. Ingegnere, scusi, non sapevo che... Ma scusi, di che cosa? Di amare quello che fa? Complimenti, è bellissima, esattamente come la volevo io. Leggera, piccola, compatta, colorata, coloratissima, bellissima. Questa macchina da scrivere cambierà la vita di tutti gli italiani, tutti, non solo i ricchi. Ci farà pensare in modo diverso, in modo libero. Come si chiama lei? Complimenti. Grazie, ingegnere. Grazie a tutti. La sa una cosa, Libero? È lo spirito stesso dell'Olivetti che è volato in questa macchina. Grazie.